Si fa vedere Ladispoli con Marvelli ma Bucarelli mette in corno mentre su ribaltamento di campo è Bucarelli a rispondere presente prima su Soldano e poi su Marvelli. Per troppo li deve allora aspettare fino al quarantesimo quando sulle estreme di un calcio di punizione la difesa si oppone a Soldano e Bucarelli a gravina ma al terzo... Il Ladispoli che va vicino al vantaggio già nel quarto minuto con una bella occasione. Poi ancora Ladispoli pericoso qualche istante più tardi qui la parata a terra di Bucarelli senza troppi problemi ma è sempre Ladispoli a fare la partita Scaramazzino mentre nel rigore anziché tirare in porta lo riesce a servire a un compagno nulla di fatto mentre è a lato. Sempre Ladispoli a fare la partita qui il tiro dalla distanza la grande risposta da parte di Bucarelli a fare la partita A secondo tempo qui l'occasione per testa palla alta sulla traversa Poi Ladispoli torna ancora a riportarsi in avanti azione di Scaramazzino sulla destra Il pallone per il numero 15 Ricci la respinta da parte di Bucarelli ma l'azione non finisce C'è Biari che riesce a riconquistare il pallone e poi ancora per Scaramazzino il servizio al centro ancora per Ricci che è qui Benanti ci vuole da Bucarelli al momento di... Senza ora va con il destro alla conclusione Bucarelli blocca a terra senza nessun problema Luci il controllo tornato il macino va Nicolucci traversa Sì il tor di quinto di Girolamo diceva il pallone e Conti portiere va di Girolamo Bucarelli respinge pallone ancora vivo Palolo premia Pallone va andà e con il destro prova a cercare Tomaselli ancora di Girolamo col macino Bucarelli a fondo di Girolamo controlla ancora di Girolamo perde l'attimo la metta al centro andai il tap in che miracolo Bucarelli un attimo la metta al centro per servire Tomaselli a tu per tu col portiere Tomaselli col mancino Zazza deve difendersi da di Girolamo riesce a appoggiare in maniera un po' rischiosa Bucarelli interviene con le mani con il destro accarezza la sfera ancora Giuditti con il destro miracolo di Bucarelli attenzione la sfera è viva